Mi chiamo Dino Corona e lavoro nel mondo assicurativo e da sempre siamo a servizio delle persone. Credo molto in inclusione possibile, un'organizzazione che è a servizio di chi ha più bisogno e venendo da un percorso particolare, familiare, credo nella loro volontà, nella loro esperienza, nella loro capacità e attraverso la quale ho visto che al di là delle istituzioni, della sanità, solo la società può fare qualcosa di più per aiutare questi ragazzi. Quindi anche io do il mio contributo con molto piacere.